Radio Calaritana, informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di... Sappi, o principe, che tra gli anni in cui gli oceani inghiottirono Atlantide e le sue splendide città e gli anni dell'ascesa dei figli di Arias, ci fu un'età di sogno, durante la quale fantastici regni erano disseminati nel mondo, come monti celesti sotto le stelle. Nemedia, Ofir, Britunia, Iperborea, Zamora, con le sue brune donne e le misteriose torri dei ragni, Zingara, con la sua cavalleria, Kot, confinante con la pastorale Shem, Stigia, con le sue tombe protette dalle ombre, Ircania, i cui cavalieri indossavano acciaio, seta e oro. Ma su tutti i regni del sognante occidente primeggiava superbo quello di Aquilonia. Qui venne Conan il Cimmero, i capelli neri, lo sguardo cupo, la spada nella mano. Un ladro, un predone, un assassino, capace di abissali malinconie ed incontenibili esplosioni di allegria, venne a schiacciare sotto i suoi piedi i più preziosi troni della terra. Cari amici ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana, dopo questo esordio un po' forse sorprendente, l'idea che chiaramente parliamo oggi di uno dei personaggi più famosi del fantasy, forse il più famoso in assoluto, e cioè Conan il Barbaro, detto anche Conan il Cimmero. Ci tenevo un po' a leggere questa introduzione, che non è in realtà dell'autore di Conan, ma di un critico, uno anche che ha continuato poi un po' a scrivere le storie di Conan, perché così capiamo subito di che cosa stiamo parlando. Siamo nel campo di quella che viene chiamata in inglese Sword and Sorcery, che in italiano si tradurrebbe come spada e stregoneria, e anche si dice un genere heroic fantasy, cioè una fantasy eroica. Che cosa è? È una storia in cui gli guerrieri sono più grandi della realtà, sono tutti spadaccini invincibili, in cui le donne sono sempre bellissime, gli stregoni sono potenti oltremisura, gli avversari di portata straordinaria. Le avventure, cioè, sono avventure che veramente trascinano in un altro mondo, in un'altra dimensione. Se pensiamo al mondo in cui è nata la Sword and Sorcery, questo non ci stupisce, perché anche le storie di Conan sono state scritte nell'America subito dopo la Grande Depressione. Era la cosiddetta stampa o pubblicistica pulp, che vuol dire polpa, nel senso che veniva fatta con una carta di cattiva qualità che si faceva la polpa e il legno. Però in realtà la parola polpa in qualche modo ci aiuta anche, perché evoca un po' delle cose belle robuste, belle carnali, ci aiuta un po' anche a capire di che genere si parla. Erano rivistine con delle copertine forse un po' zè per l'epoca, in cui c'erano guerrieri nerborutti a torso nudo, donne legate che stavano per essere divorate da qualche mostro straordinario, stregoni, cupi piegati su se stessi, spesso che avevano anche un'area un po' orientale, ecco perché il nemico giallo poteva essere alle porte. Chi leggeva queste storie? Le leggevano i contadini del West Rurale degli Stati Uniti, le leggevano i nuovi impiegati che facevano i pendolari e che perciò durante il viaggio in treno o in autobus avevano un po' di tempo per leggere, le leggeva della gente di istruzione magari non tanto avanzata e perciò dovevano essere storie che acchiappavano, che trascinavano, che facevano sognare e che in qualche modo erano capaci di catalizzare un'attenzione di un pubblico anche un po' diciamo così di bocca buona. Erano delle storie molto energiche insomma, come spero che risulti energico il brano di Europe, The Final Countdown, con cui facciamo una piccola pausa. Ci risentiamo subito dopo. Ben ritrovati sulle frequenze radio Calaritana, stiamo parlando di Conan, Conan il Barbaro, che è il protagonista di una serie, per alcuni aspetti, infinita di opere. In altre occasioni vi ho consigliato un singolo libro. Conan è il protagonista, possiamo dire, in un certo senso di un corpus di testi diversi. Mi scopro subito. Se qualcuno di voi vuole avvicinarsi a Conan, Conan il Conquistatore, che è un romanzo intero, è una buona scelta. Altrimenti potete anche orientarvi su qualche raccolta di racconti. Fra i racconti devo dire che i miei preferiti sono La Torre dell'elefante e Chiodi Rossi. Se trovate queste cose, secondo me andate abbastanza sul sicuro. Però mi rimane, vi ho un po' fatto l'introduzione prima, e mi rimane da dirvi come sono le storie di Conan. Beh, le storie di Conan sono storie che sono state scritte da un giovanotto texano, anche lui un po' di bocca buona come i suoi lettori, che sognava di scrivere western. All'epoca il western era il genere letterario di intrattenimento un po', diciamo così, di classe. E poteva anche dare l'accesso a Hollywood, perché a Hollywood si facevano i film western. Il fantasy, invece, era un po' il genere di serie B. Ecco, se Howard, che è l'autore di Conan, avesse saputo che oggi, scrivendo Harry Potter, si fanno i milioni, e invece romanzi western non li legge nessuno, credo sarebbe rimasto veramente molto sorpreso. Howard, però, aveva una capacità straordinaria di accattivarsi il lettore. Le storie di Conan sono delle storie molto ingenue, storie che alcune volte ci lasciano anche perplessi riguardo al loro messaggio, ma che, dal punto di vista del puro intrattenimento, sono straordinarie. Non c'è una pagina di riposo, non c'è una descrizione fuori posto, è pura avventura, veramente senza nessuna adulterazione. E Conan è, nonostante tutto, un bel personaggio. Prima, forse vi ho preoccupato, perché vi ho detto che Conan è un ladro, un assassino. Questo è vero. Noi, attraverso tutti i racconti, seguiamo Conan dalle sue prime imprese giovanili, in cui è un avventuriero, in fondo anche un po' senza scrupoli, fino all'età matura, in cui diventerà re di Aquilonia, che è il regno più potente fra quelli della sua epoca, di cui vi ho raccontato. Si riconosce un po' nelle storie di Conan, in filigrana, la nostra terra. Naturalmente si suppone che fra l'era di Conan e la nostra ci sono stati dei cataclismi, per cui il mondo è stato un po' rimescolato, però un po' le razze, le situazioni e le varie popolazioni che sono presentate sono abbastanza facilmente riconoscibili e questo aiuta anche il piacere della lettura. Naturalmente Conan è anche abbastanza discusso, per esempio il trattamento di Conan delle donne ha suscitato negli anni più di una critica sia da parte dei fan sia da parte di altre scrittrici che hanno tenuto a disegnare le loro eroine in maniera assolutamente antitetica a quella delle donne presenti in Conan, che però non sono mai delle figure così, come possiamo dire, sottomesse. Ci sono principesse, spadaccine, avventuriere, streghe anche, sacerdotesse e così via. Quello che naturalmente rimane è che l'enfasi è quella di una società come quella in cui scriveva Howard, in cui comunque le donne in qualche misura erano comunque ai margini. Dopo aver parlato della situazione delle donne, però ho forse preso una deviazione, ci tengo un po' a dirvi com'è stata la storia editoriale di Conan, perché è una storia complicata e che è tipica del fantasy e merita in qualche modo di essere seguita. Howard è morto molto giovane, lasciando un corpus di storie già pubblicate, pubblicate in vari posti, perché erano pubblicate da diverse riviste, lui le spediva ora l'uno ora l'altro e secondo chi le accettava venivano messe in circolazione. Ha lasciato anche alcuni romanzi pronti e poi una serie abbastanza ampia di storie abbozzate, alcune abbastanza in stato quasi concluso, altre veramente soltanto degli appunti. Ci sono stati perciò una serie di altri scrittori che hanno completato e in qualche modo anche integrato il corpus di Conan e poi già che c'erano hanno scritto anche le storie completamente nuove che forse non avevano molto a che vedere con le vere storie pensate da Howard. Perciò il mio consiglio è in qualche modo di concentrarvi sulle storie vere di Conan, anche se il personaggio è abbastanza interessante in tutti i casi. Una cosa però su cui andate sicuramente a colpo sicuro sono i fumetti tratti da Conan, soprattutto quelli dell'epoca eroica, che sono senz'altro interessanti e danno una resa del personaggio molto accettabile. Bene, il nostro tempo è quasi terminato. Noi ci salutiamo, vi annuncio che la prossima volta parleremo di Harry Potter, perciò rimaniamo su una linea di personaggi molto noti. Vi ricordo anche che se volete possiamo seguirci, chiacchierare un po' sia su Facebook sia sul sito robertoseda.it su cui tento di pubblicare le storie e le puntate, vi ricordo anche che oggi parliamo di libri e in onda il giovedì alle 19.10 in replica e il venerdì alle 8.30 del mattino sulle frequenze di Radio Calaritana. Arrivederci a tutti. Radio Calaritana Informazione, cultura, spiritualità